www.morizopoli.it, edicola settimanale Montopadano anche in digitale su www.morizopadano.it Riserto, economia e lavoro, nella rubrica risparmia e finanza, nuovo articolo di Giusy Biondelli, educatore del corso elettro e finanziario, che ci fa un report sul quante che si svolga alla ZISE, la decestesima edizione, sull'intelligenza artificiale e digitale, rischi ed opportunità. Il nuovo frontiere, il cambiamento tecnologico, non riguarda solo le banche, gli intermediari finanziari o le case di gestione, ma ha un impatto sulla vita di tutti, anche dei clienti privati. Concludo con la frase finale, che ci parla con un saluto, da parte di Giusy Biondelli, Daniel Kahneman, promuio Nobel per l'economia del 2002. Se il mondo dentro la nostra testa non è una replica precisa della realtà, le nostre aspettative riguardano la frequenza degli eventi sono distorte dalla quantità e intensità emozionale dei messaggi che siamo esposti. Buona Pasqua e una buona lettura.